Dopo le operazioni dei mesi scorsi che hanno decapitato due diversi sodalizi dediti allo spaccio in Valle Camonica e nella confinante provincia di Bergamo, i carabinieri della compagnia di Brino assestano un altro duro colpo allo spaccio in zona. A finire in Maretta in queste ore, grazie al lavoro del nucleo operativo e radiomobile della compagnia, due spacciatori magrebini ritenuti fornitori dei pusher che riforniscono le piazze di spaccio della bassa Valle Camonica, per lo più loro connazionali che vivono sul territorio. L'operazione è scaturita dopo gli arresti e gli sequestri dei mesi scorsi nei comuni di Darfo, Buario, Terme, Artonia e Desine. In sostanza, i carabinieri hanno risalito la filiera dello spaccio sino ad arrivare ai due grossisti. Dopo mesi di indagini, l'operazione è scattata e si è conclusa sabato sera, quando i carabinieri hanno fermato due pregiudicati di 44 e 34 anni a Pontirolo Nuovo e Durniano. Neppure i militari impegnati nell'operazione si aspettavano di trovare tanta roba. Il più giovane dei due, il 34enne, è stato fermato mentre si trovava alla guida della sua auto. I carabinieri sono andati a colpo sicuro, infatti all'interno dello schienale del sedile passeggero hanno trovato un etto di cocaina. Nell'abitazione, invece, sono stati sequestrati 25.000 euro in contanti. Il 44enne è stato fermato proprio in casa sua, dove sotto il letto i carabinieri di Breno hanno trovato un trolley con 300 panetti di hashish per un totale di 30 chili e 170 grammi di cocaina. Il valore della roba sequestrata si aggira attorno ai 150.000 euro. Per i due si sono aperte le porte del carcere di Bergamo. Grazie. Grazie.